Grazie per aver chiamato Forza Nuova per la difesa della famiglia. Siete a conoscenza di iniziative di propagandomo sessualista nelle scuole dei vostri figli? Lasciate il vostro nome e il vostro numero di telefono. Prenderemo in carico la vostra segnalazione e vi richiameremo al più presto. La vostra e le altre segnalazioni contribuiranno alla creazione di un libro bianco che denunci l'aggressione alla famiglia tradizionale e alla salute dei nostri bambini. Difendete i vostri figli. Non siete soli. Buonasera, volevo dirvi che io non voglio assolutamente parlare di nessuna propaganda omosessualista, ma voglio parlare della vostra propaganda di fascisti di merda quali siete e spero proprio che moriate tutti. Vi dovete curare, ma molto seriamente. Grandi test di cazzo. Chi cazzo ve la tocca la vostra fottuta famiglia eterosessuale? Chi cazzo ve la tocca? Ma andate a cagare voi, la vostra famiglia tradizionale, i vostri figli. Quanto siete stronzi. Vergonzatevi in merda. Siete solo merda fascista. Ecco cosa siete. Ma andate a fanculo. Fate schifo, siete molto malati. Curatevi, fate veramente vomitare. Siete il cancro di questa società. Il libro bianco, ficato rosso per il culo. Coglioni, andatevene a fanculo.